In questo video ti farò vedere come aumentare gli slot nell'inventario delle armi, scudi e archi. Ma prima di cominciare voglio ringraziare tutti coloro che mi lasciano sempre un bel pollicione e si iscrivono al canale. E se tu stai guardando questo video e ti sta piacendo fammelo sapere almeno nei commenti. E se siete pronti cominciamo! Per prima cosa dovete recarvi esattamente in questa posizione. E lì ci imbatteremo con Castone che ci chiederà di sconfiggere i due mostri alberi che ci sono lì davanti. Sconfiggeteli ed una volta che li avremo battuti torneremo a parlare con Castone automaticamente. E lì ci dirà che avrà perso dei semi Korogu e se glieli riporteremo ci allargerà la nostra borsa. Però ragazzi una volta che avremo fatto due potenziamenti con Castone lui si sposterà al Forte Guardia che si trova esattamente qui. E quando sarete arrivati al Forte Guardia parlate nuovamente con lui che ci farà fare tutti i potenziamenti che vogliamo. Ricordatevi che nel gioco ci sono 900 semi Korogu e che per ogni potenziamento di slot dell'arco scudo o arma Castone aumenterà il prezzo. Quindi in conclusione Castone è uno struzzino. Ed ora vi auguro buona fortuna nella ricerca dei semi Korogu. E questo è tutto da parte mia. Lascia un bel pollicione ed iscrivetevi al canale per altri contenuti. Io sono Ucanos, alla prossima. Ciao!